Grazie a tutti. Da quasi vent'anni sono personalmente impegnata nello studio e nella ricerca sul fenomeno della diffusione in Italia di minoranze religiose e spirituali. Secondo i dati del 2012 forniti da Cessno di Massimo Introvigne, in Italia ci sono almeno 836 minoranze religiose e spirituali organizzate. Negli ultimi 15 anni nel mio Paese si sono aperti pericolosi scenari di intolleranza verso minoranze religiose e spirituali, che vengono di volta in volta etichettate con lo stigma di 7, psico 7, 7 distruttive. L'allarme creato ad hoc è stato tale che il Ministero degli Interni nel 2006 ha creato una squadra di polizia anti-7, con finalità di indagine e monitoraggio di questi gruppi. Sono qui per chiedere alle autorità italiane di intraprendere un'indagine anche attraverso un'apposita commissione richiesta per verificare la costituzionalità e la legalità del Dipartimento di Polizia anti-7 e la correttezza del suo operato, specialmente in relazione ai consulenti di cui si serve per monitorare i gruppi religiosi e spirituali, per chiedere anche di verificare se la squadra di polizia anti-7 nelle sue finalità e attraverso il suo operato non violi il diritto costituzionalmente garantito di professare la propria religione e il proprio credo. E infine chiedo allo Stato italiano di intraprendere nei confronti delle minoranze religiose e spirituali presenti in Italia strategie di accoglienza e dialogo costruttivo che promuovano l'integrazione e la convivenza civile. Grazie.